... Scorapi, Scrugli in verticale, l'uscita di Anacura, lo scontro con Andrea Scrugli, rimane a terra il... ...è servito perla molto bene ma il centroavanti dell'Aquila non trova il tempo. Il cross al centro di Pacilli, stacca Carini, attenzione la palla, sottoporta per Perna, la prodezza stavolta... ...la finta, Perna, la prodezza di Anacura, la prodezza di Anacura... ...Parte Corapi, ed è ancora una grande parata di Anacura sulla punizione... ...San Domenico, la respinta di Anacura, attenzione la porta è sguarnita, la porta è sguarnita di Uric, prova con un tiraccio... ...tanto il cross a cercare Mengoni, Anacura però, comanda lui in aree, dicevo... ...Rai in due tempi... ...Glassi, troppo profonda, era buona l'idea... ...Altinieri, rinvio di Anacura... ...Mengoni... Tripoli... ...Face con il sinistro, è la gran parata di Anacura... ...Ma adesso si è svegliata dolorosamente... ...Al tiro la parata sul primo palo... ...Mancosu, la mette dentro, quel regolante, attenzione la ribattuta in qualche modo della difesa del... ...Attenzione, la padula, c'è la grande parata, la grande parata del portiere Anacura che va a togli... ...Alta della classifica, zona bassa, mentre Lascoli riceverà al... ...Anacura per commentare tutti i match... ...Plastico in ripresa di Francesco Anacura... ...Anche lui in prestito dal... ...Occhio! ...Occhio! ...Sale a destra... ...Held... ...Ancora lui... ...Bella la sua azione... ...Il destro... ...In due tempi... ...Ilắn... ...Pre capsid certi che... ...essi così! ...In dueitta a bulloti... ...Il r Selective del motore... ...In due post… ...Un pul... Grazie a tutti. Grazie a tutti. 2-0 in favore dei grifoni che adesso vengono avanti. Buono il lancio per Saeed. Attenzione, posizione regolare. Saeed. Anacoura.